salve a tutti amici e amiche oggi un video particolare giorni fa purtroppo per me youtube mi ha suggerito alcuni video di andrea lombardi in cui nasceva un po la diatriba con parabellum parabellum scusate sul perché gli ucraini non stiano usando i patriot per abbattere gli aerei russi che continuano a sganciare bombe plananti non voglio entrare nel merito di quella discussione che è sorta fra loro due insomma non sono affari miei però credo che entrambe le parti abbiano proposto alcuni validi spunti di riflessione ma in ogni caso come poi ho anche commentato a due video di andrea le sue obiezioni a parabellum e le critiche sono state poco precise sia per quanto riguarda lo schieramento di queste unità antiaeree missilistiche sia perché poi ha dimostrato poca conoscenza delle modalità di attacco degli aerei a ridosso del fronte devo essere onesto e questo non lo dico per portare acqua al mio mulino ma accade troppo spesso che i canali di analisi militare facciano troppo affidamento sulle tabelle e i dati tecnici dei missili piuttosto che andare a studiare a fondo certi argomenti quello che sto dicendo è che basare le proprie analisi sulla materia militare guardando tabelle e caratteristiche tecniche delle armi porta inevitabilmente a commettere degli errori tipici di un ambiente asettico da studio che poi è molto lontano da una conoscenza pratica delle tecniche di utilizzo delle armi stesse quindi parto col dire che a proposito dei patriot ucraini e delle bombe russe molte delle osservazioni fatte da andrea sono sbagliate e lo vedremo all'atto pratico sopra ogni cosa è bene ricordare che i cosiddetti sem sono i sistemi missilistici antimissile e antiaerei sono unità estremamente preziose che nessuno si sognerebbe mai di schierare a ridosso del fronte di conseguenza quando si parla del raggio effettivo di questi sistemi bisogna considerare che hanno un posizionamento strategico dietro le linee nemiche alle spalle del fronte proprio perché sono ad ampio raggio e soprattutto vanno poi integrate con altri sistemi più piccoli come roland chaparral e stinger che sono molto più mobili e possono invece schierarsi più a ridosso del fronte lo scudo missilistico quindi è una materia molto complessa che non si può ridurre al singolo pezzo o unità che si schiera in un campo invece è materia tattica che si integra con moltissime altre unità centri di comando aerei per la sorveglianza awaks e dati satellitari ok quindi in sostanza gli ucraini non possono permettersi i patriot a ridosso del fronte perché appunto in quel caso basterebbero i colpi dell'artiglieria per farlo fuori se non un'incursione di truppe speciali russe quindi basta già questo per poter dire che i russi possono sganciare le loro bombe a ridosso del fronte senza essere minacciati da questi missili ma in questo video voglio spingermi oltre e voglio mostrarvi cosa succede nell'eventualità che proprio questi sistemi missilistici venissero schierati a ridosso del fronte cosa cambierebbe potrebbero abbattere gli aerei che si avvicinano per lanciare le loro bombe vediamolo partiamo col dire che il sistema patriot se guardiamo le tabelle dichiarate su cui anche andrea che parabello ma hanno fatto un certo riferimento questo sistema ha un range ufficiale di 70 chilometri e il suo missile ha una velocità di mach 5 circa e qui appunto ricordatevi questo fatidico 70 chilometri perché molti fanno proprio questo errore cioè considerano che il missile può abbattere un aereo a 70 chilometri ma davvero può farlo la risposta è no il range massimo è considerato in termini di quanto il missile è riuscito a fare in fase di test su un bersaglio prestabilito di cui gli addetti probabilmente conoscevano già la posizione e che era bello lì che volava dritto pronto a farsi colpire un grosso aereo magari come un awax o un cargo che vola ad altissima quota sì tecnicamente può essere abbattuto a quelle distanze e infatti è successo non a caso i russi hanno perso due awax in questo modo ma quando si applica questa tattica cioè questo metodo di utilizzo all'angolo ad ampio raggio del patriot contro un caccia che vola più basso non vale più questo discorso e quindi proprio per questo nel simulatore ho voluto mostrarvi cosa accade più verosibilmente partiamo col dire intanto che qualsiasi sistema misteristico ha bisogno di due elementi per poter ingaggiare un bersaglio un'antenna che serve a fare scansioni è un'antenna che serve ad agganciare poi il bersaglio può sembrare strano ma sono due cose diverse nel senso l'unità che serve alle scansioni può avere una potenza utilizzata in modo diverso è una capacità molto più ampia proprio per avere un'immagine quanto più precisa di quello che sta che le sta avvenendo incontro l'antenna invece che serve al tracciamento ha l'unico scopo di agganciare il bersaglio e guidare il missile fino all'impatto quindi perché queste due antenne possano funzionare in termini militari hanno bisogno della cosiddetta loss cioè la linea visiva cioè fra loro e il bersaglio non devono esserci ostacoli perché tutto il sistema funzioni quindi immaginiamo gli addetti della postazione che poi è anche computerizzata impiegare del tempo per rilevare il bersaglio agganciarlo e utilizzare il missile al momento del lancio per andare a impattare contro il bersaglio così funziona il patriot che utilizza missili semiattivi cioè non sono missili indipendenti hanno bisogno di essere guidati dalla stazione fino all'impatto ci sono tanti altri sistemi come per esempio il nasems che è utilizzato anche dagli ucraini che utilizza il sistema lancia e dimentica con dei missili che sono gli aim 120 adattati per essere lanciati da terra sono praticamente gli stessi missili che montano anche gli f-16 gli f-35 gli f-22 sono missili aria che possono partire anche da una postazione a terra tuttavia chiaramente queste postazioni il missile partendo da terra ha un raggio molto più corto rispetto allo stesso missile che se viene lanciato da un aereo che va mac 1 per cui se nominalmente la m120 sulle tabelle ha un range di anche 80 chilometri partendo da terra poverino non va oltre 15-20 chilometri per cui la postazione nasems è classificata come una postazione a medio e corto raggio io direi più di altro a corto raggio per non divagare quindi vediamo cosa è successo nel mio esperimento per fare questo test sto utilizzando dcs un simulatore militare sviluppato dalla eagle dynamics che è un'azienda di origine russa anche se poi dal 2005 questa compagnia si è evoluta per fortuna è scappata via dal paese d'origine e oggi collabora con tanti altri attori internazionali alcune versioni adattate di questo simulatore sono utilizzate dall'usare force e dall'armè dell'air però ce ne sono molti altri quindi non esagero se vi dico che è il miglior simulatore militare in circolazione almeno che può essere acquistato anche da un civile quindi ho preso i comandi di un su 27 la prima serie equipaggiandolo con 31 bombe fab diverse fra le 500 e le 250 dove questo numero indica i chili della bomba e poi ho posizionato un saint patriot proprio a ridosso di un obiettivo un aeroporto che vorrei colpire quindi la domanda è quanto riuscirò ad avvicinarmi senza essere abbattuto cosa potrebbe fare un pilota russo al posto mio come ho anticipato prima questo sistema di difesa ha due punti deboli il fatto che è fermo cioè non si può nascondere e il fatto che per colpirmi e tracciarmi ha bisogno della linea visiva quindi se io conosco la sua posizione posso sfruttare queste debolezze a mio vantaggio cosa mi aspetto che accada in una prima fase la sua antenna di scansione inizierà a rilevarmi da molto molto lontano il search radar del patriot penso che possa tranquillamente rilevare un su 27 e tutte le sue versioni successive abbondantemente oltre i 150 chilometri anche il su 57 per esempio avendo una radar cross section molto simile a quella dell'f18 potrà essere rilevato intorno ai 140 130 chilometri dall'antenna di scansione del sistema ma appunto questo comporta solo una visualizzazione da parte degli operatori del sistema premetto inoltre che per fare questo esperimento non sto usando disturbatori elettronici o nessun altro aereo che mi copre alle mie spalle chiaramente se fossimo in quattro aeroplani o molti di più manderei più in crisi la stazione impegnandola a fare una selezione fra i disturbi elettronici le altre tracce e il mio segnale dal suono che sentite che ricorda un po telefono libero il beriozza del su 27 sistema è chiamato sp o 15 è stato un sistema molto efficiente che permetteva di rilevare tutti i segnali radar che investivano l'aereo e di classificarli e tracciarli oggi questo sistema è stato sostituito da uno più moderno che ha una lettura più semplice che si avvicina molto di più agli rvr occidentali quindi le missioni della dell'antenna del patriot è davanti a me a ore 12 e dalla ghiera centrale del beriozza vedo che a circa 140 chilometri mi aspetto di entrare nel raggio dell'antenna di tracciamento intorno ai 70 chilometri vi ricordate i 70 chilometri sono quelli indicati dalle tabelle la postazione dato che sono ad una quota media e volo su un caccia e considerando i tempi necessari mi aspetto che inizierà ad agganciarmi intorno ai 60 chilometri a quel punto sempre per i tempi di decorrenza del sistema mi lancerà intorno ai 50 55 chilometri e come vedete sì il missile del patriot va a mach 5 ma comunque per fare 50 e passa chilometri ci metterà più di 30 secondi a raggiungermi in tutto questo tempo posso fare qualsiasi cosa se tornassi indietro comunque non mi prenderebbe perché uscirei dalla zona di tracciamento ma non ne ho bisogno semplicemente mi basta scendere a una quota più bassa per interrompere la linea visiva fra me e la postazione e il missile evaso fine andiamo avanti procedo verso l'obiettivo e risalgo un poco ma questo perché voglio che la postazione mi lanci ancora e di nuovo immaginate l'operatore alpatrioc deve rifare tutto quanto il processo da zero perché nel momento in cui mi sono abbassato mi ha perso cioè sono sparito dal radar del sistema ora sono a meno di 40 chilometri tecnicamente da qui i piloti russi nella realtà sganciano le loro bombe plananti e se ne vanno impuniti quello che fanno sicuramente ma io decido di andare avanti per fare il mio test ricevo il secondo lancio ora ho meno tempo per evadere il missile circa 15 secondi ma la tecnica è la stessa mi abbasso e interrompo la linea visiva davanti a me potete vedere la scia del missile e la nuvoletta dell'esplosione dell'autodistruzione dello stesso proprio nel momento in cui la postazione ha perso il contatto con me ora sono a 27 chilometri dal bersaglio sono abbondantemente all'interno delle possibilità di sganciare bombe o lanciare missili sul confine risalgo per dare un'occhiata all'aeroporto che voglio colpire e di nuovo la postazione sam impiega un tot di tempo per agganciarmi e lanciare il missile successivo a poco più di 15 chilometri meno di 9 secondi per evadere questo missile di nuovo la modalità di evasione è la stessa e a questo punto sono abbastanza vicino sotto i 10 chilometri dal bersaglio per portare il mio attacco con bombe che sono fab tradizionali non quelle plananti la tecnica che sto utilizzando si chiama loft bombing in italiano significa bombardamento in cabrata consiste nell'arrivare bassi utilizzare il computer di bordo affinché questo calcoli il punto di impatto alla pressione del grilletto e rilasci le bombe mentre sto cabrando in questo modo posso andarmene con questa manovra mentre le bombe fanno una bella palombella e si sparpagliano in un'aria facendo una strisciata quindi immaginate se è fatto con bombe plananti quanto possono andare lontano e colpire a caso in un'aria molto vasta durante l'uscita dall'attacco ricevo un altro missile dal patriot ma a questo punto mi basta restare basso per evalderlo non contento decido di mitragliarlo cioè ora questo è veramente da pazzi però serve proprio a dimostrare i limiti di una postazione di questo tipo che non può colpire aerei a bassa quota e non lo può fare a cortissimo raggio come ho detto all'inizio è una postazione a lungo raggio che nasce come deterrente o a sistema antimissile perché appunto intercettare i missili è più semplice di un aereo hanno traiettorie più prevedibili e non fraintendetemi le mie capacità come pilota virtuale in un certo senso sono migliori di quelle di un pilota reale ma questo perché per arrivare a ottenere questa confidenza e questi risultati sono morto mille volte cosa che ovviamente un pilota reale non può fare poi chiaramente seduti a casa davanti a un monitor non si sperimenta la paura e l'angoscia di volare su questi aerei mentre si sorvola un campo di battaglia ma il test serviva solo per darvi un'idea delle capacità del patriot da un punto di vista pratico i piloti russi che spesso volano su su 27 proprio come questo dato che rappresenta ancora il grosso della loro aviazione li ho visti montare il cosiddetto garmin che è una sorta di navigatore satellitare che li aiuta a fare il punto rotta decollano con un piano di volo pronto e sganciano su coordinate quindi praticamente restano bassi tutto il tempo essendo bassi sono stealth fondamentalmente e quindi arrivano al punto di sgancio delle bombe salgono cabrando sganciano e se ne vanno e questo è quanto cioè probabilmente non ricevano neanche un missile perché la postazione non ha il tempo di vederli e di lanciare è chiaro che questa tecnica è un bel problema per l'esercito ucraino perché l'unico modo per fermare questo tipo di attacchi è schierare un'aviazione che veda questi aerei e gli impedisca di avvicinarsi e quindi è vero che oggi gli scudi missilistici sono la cosa più importante ma da soli senza aviazione non bastano di certo poi quando si parla di patriot bisogna considerarli nel contesto sia chiaro avrei potuto fare la stessa cosa anche con i missili russi come l'S300 l'S400 anzi dato che sono postazioni con lanciatori molto più pesanti e grossi sarebbe stato anche più facile a girarli in questo modo quindi per questo motivo nella realtà esistono tutta una serie di sistemi più piccoli e a cortoraggio molto più letali per aerei che volano bassi e che cercano di fare i furbi in questo modo ma allo stesso tempo per un soldato che lancia uno stinger è comunque difficile abbattere un aereo molto veloce che vola così basso la finestra di tiro è molto piccola e dai video che circolano in rete i piloti russi si vede chiaramente che non appena si avvicinano alla linea del fronte lanciano flare come pazzi proprio perché il pericolo di essere abbattuti da un missile spalleggiabile è molto più consistente della minaccia del patriot e non a caso questi piccoli sistemi hanno preso una valanga di elicotteri e di aerei dall'inizio del conflitto ma come ho detto prima anche schierando tutti i sistemi a corto e medio raggio serve anche un'aviazione per intercettare i bombardieri cioè le due cose vanno insieme per concludere spero che quei due la smettono di stuzzicarsi a vicenda in particolare andrea che ne ha sembra veramente ossessionato andrea ma lascia fare piuttosto se hai dubbi sulle tecniche operative sulle tecnologie militari fammi un fischio magari posso aiutarti quando le ricerche che fai su internet non bastano e per essere chiari io non mi definisco un analista militare anche se credo che quel titolo non esista ufficialmente penso di avere solo uno dei due dei tre requisiti per definirmi tale non sono laureato in ingegneria io sono un semplice studioso di queste cose come sempre un abbraccio fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate alla prossima